Ben trovati a tutti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di BioBlu e su BioBlu. Oggi vogliamo parlare del DDL ZAN, se ne parla molto, se ne parla anche a sproposito, divide l'opinione pubblica italiana. Oggi ne vogliamo parlare con un ospite in collegamento con noi, il professor Matteo D'Amico, filosofo. Grazie professore per essere con noi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ecco, professore, io vorrei iniziare già ad andare al cuore della questione. Perché? Vorrei provare a mettermi dalla parte di coloro che difendono questo DDL, questo disegno di legge ZAN. Perché loro dicono che effettivamente questo DDL non andrebbe che ad aggiungere qualcosa a una legge che già c'è, che tutela le minoranze etniche e razziali e quindi andrebbe ad aggiungere in questo caso una difesa nei confronti delle minoranze di genere. Quindi, che cosa ci sarebbe di male in questo? E io voglio iniziare proprio a chiederle questo. Secondo lei, quali sono gli aspetti critici nei confronti di questo DDL e come rispondere appunto a coloro che invece sostengono che alla fine si tratta semplicemente di andare ad ampliare il ventaglio di possibili pene per reati che una legge già prevede? Sì, la domanda è legittima e corretta perché in effetti il DDL ZAN, il cosiddetto DDL contro l'omotransfobia, di cui si sta discutendo in questi giorni, va a incardinarsi e a correggere sostanzialmente l'articolo 604 del Codice Penale, che è il recepimento, un sede di Codice Penale della famosa legge Mancino degli anni 90. Il problema è che sia l'articolo citato sia la legge Mancino sono già in sé strutture penalistiche cariche di conseguenze molto gravi, cariche di problemi. La legge Mancino, ricorderete, è la legge contro atti di istigazione all'odio o violenze commesse per motivi legati al razzismo, all'antisemitismo essenzialmente o per motivi religiosi. E aveva di fatto un contenuto molto critico, cioè le definizioni di discriminazione o di atti di istigazione alla discriminazione erano del tutto aleatorie, cioè di fatto erano lasciate in una grande vaghezza. Quindi la legge Mancino e l'attuale articolo 604 del Codice Penale hanno dei problemi che allargando la fattispecie appena descritta anche agli atti di violenza o di istigazione alla violenza e alla discriminazione verso persone aventi identità sessuale, ad esempio omosessuale, allarga ulteriormente lo spazio di rischio per il cittadino che già è implicito nella legge Mancino e nell'articolo 604. Per sintetizzare, perché il discorso è giuridicamente un po' complesso, c'è una filiera storica, legge Mancino, articolo 604 del Codice Penale, con grossi problemi interni che le persone più attenti hanno sempre messo in luce, la vaghezza di definizione dei concetti, di razzismo, di discriminazione, di istigazione alla discriminazione e all'odio, che viene allargata a ulteriori fattispecie di possibili reati, cioè quelli riferiti a quella parte di popolazione che appunto ha un'identità di genere, come viene definita, diversa da quella eterosessuale. Quindi il DDL ZAN è problematico in quanto allarga le fattispecie di reato della legge Mancino e dell'articolo 604 bis. Questa è la prima cosa da specificare. Il problema è sostanzialmente dovuto alla debolezza definitoria che è dentro questa legge, perché lei capisce che se io parlo di discriminazione, o definisco molto, molto precisamente, attentamente cos'è la discriminazione o assegno un potere enorme, in un certo senso, ai giudici che saranno chiamati a decidere se un certo tipo di comportamento è discriminatorio o no. Quindi si può dire che la legge di DDL ZAN, se passa, delega alla magistratura il compito di definire caso per caso se un comportamento in effetti è, ad esempio, discriminatorio o no. E questo va contro diversi principi della nostra Carta Costituzionale, va contro il grande principio giuridico della tassatività della norma giuridica, cioè della precisione definitoria, che in campo penalistico è particolarmente rilevante. Si sta costruendo, in altre parole, un tipo di legge talmente vago, poi lo vedremo meglio nei suoi contenuti a partire dall'articolo 1, che è quello decisivo, talmente vago, talmente indefinito, che si crea una nebulosa giuridica entro cui tutto sarà possibile, perché non è più la legge che decide, diciamo così, ma di fatto sarà il giudice che interpreterà i comportamenti in modo molto libero. Per cui entriamo in un tunnel gravissimo, perché una legge non precisa, con termini vaghi, aleatori, chiaramente espone il cittadino a rischio di essere colpito in qualunque modo, perché non c'è più possibilità di difendersi in modo ragionevole. Ecco, per cui il problema di Diale Zan, lo ribadisco, è il problema del tipo di tradizione giuridica, la legge Mancino, cui va ad appoggiarsi. Ecco, ma coloro che appunto lo difendono, sostengono anche che il problema non è soltanto di tipo giuridico, ma anche sociale. Cioè ci sarebbe la necessità oggi, visto che questo tipo di reati che questi gruppi subiscono, ci sarebbe la necessità di legiferare, per cercare di porre freno a qualcosa che è un problema esistente. Io immagino che lei però abbia un'idea diversa da questo punto di vista. Cioè, le chiedo, esiste una vera e propria emergenza omofobica nel nostro paese, in Europa, tale da giustificare leggi del genere? Allora, no, perché l'Italia, innanzitutto, è uno dei paesi, contrariamente a quello che dicono i sostenitori della legge Zan, del disegno della legge Zan, con un'incidenza molto bassa di atteggiamenti, per usare il termine che stanno usando, i favorevoli alla legge di atteggiamenti omofobici. In realtà è un paese molto tollerante, contrariamente a quello che si cerca di farci credere. In secondo luogo, è un dato ufficiale che, per esempio, si trova sul sito omofobia.org, dove c'è, anno per anno, la divisione fra i diversi tipi di, diciamo, incidenti a sfondo omofobico accaduti. E la media degli ultimi anni si aggira sui 100 casi all'anno, dove però i casi di effettiva violenza fisica, per esempio, sono ridottissimi. Una larga maggioranza di casi è costituita da atti di fatto non violenti, ad esempio parole o altre cose. Per cui si parla di 100 casi di cui sono veramente pochi quelli che hanno un esito, come dire, violento. Su una popolazione di 60 milioni di abitanti siamo di fronte a cifre veramente piccole e sono le cifre che danno gli stessi organismi preposti a monitorare questo tipo di comportamento. Quindi sul piano dei fatti non c'è per nulla un'emergenza di questo tipo. Anche i sondaggi che vengono fatti a livello internazionale sull'attitudine di un paese ad avere atteggiamenti discriminatori, omofobici, vedono l'Italia posizionata ufficialmente a livello internazionale nella fascia alta dei paesi più tolleranti, non dei paesi più intolleranti. Quindi di fatto non c'è nessun tipo di emergenza omofobica. C'è un altro tipo di emergenza, quella mass-mediatica artificialmente creata dai media che enfatizzano in modo incredibile i pochi casi, ammesso che poi davvero siano andati come ci vengono raccontati, di comportamenti omofobici. Però siamo davvero di fronte a numeri piccolissimi. Dopo magari vi do i dati al millimetro, ma sono numeri che si aggirano su 100 casi di cui pochissimi concretamente pericolosi o violenti. Se andiamo a fare un'analisi più specifica del DDL-ZAN, a partire per esempio dall'articolo 1, quello che può essere messo in evidenza è una ricaduta, oltre che giuridica, proprio antropologica. Cioè questo tipo di leggi poi vanno a impattare anche antropologicamente in una società. Qui c'è il rischio che si instauri una sorta di stato etico, di matrice totalitaria, nel senso che poi questo tipo di leggi diventano il comune buonsenso e chi non si attiene, anche chi magari non dico arrivi a commettere reati contro questa legge, ma anche chi esprime opinioni diverse può essere messo in difficoltà. Sì, è una categoria più che corretta quella di stato etico come rischio. Perché? Perché l'articolo 1, che forse vale la pena a questo punto, lo leggo brevemente perché è molto breve e lo commentiamo perché è il nodo di tutto e ci tengo a sottolinearlo. Perché c'è questo rischio? Noi sappiamo che con stato etico si intende alludere da Hegel in poi allo stato che noi oggi chiamiamo totalitario. Lo stato cioè che adotta una ideologia ufficiale di regime, potremmo dire, e la impone con strumenti anche penalistici a tutti. Quindi pensiamo ai regimi totalitari del Novecento, dove c'è un'ideologia ufficiale che è obbligatorio interiorizzare e accettare. E nel caso del DDL-ZAN questo rischio c'è. Perché? Perché il DDL, come qualche giurista ha notato, all'articolo 1 di fatto pretende di imporre ope legis, cioè per via legislativa, una filosofia, una specifica particolarissima filosofia o ideologia o concezione dell'uomo del tutto opinabile, che sarebbe più che legittimo discutere, ma di imporla a tutti i cittadini. E infatti se leggiamo l'articolo lo capiamo subito. Il primo articolo è quello definito delle definizioni e recita così ai fini della presente legge A. Per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico B. Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso C. Per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi. Di per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Io penso, leggendolo, vi siete resi conto di due cose. La prima, l'incredibile gioco di contraddizioni e di complesse relazioni dialettiche fra le dimensioni che vengono evocate. sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere. Quindi avremo un Parlamento che pretende di imporre per legge, in sede penalistica, perché è una legge che ha riverberi penali, ben quattro definizioni, ciascuna delle quali è ampiamente passibile di discussione e di riflessione, perché appunto queste definizioni non derivano da una scienza certa di carattere medico-psicologico, ma derivano da un'assunzione ideologica, da una scelta puramente politica e filosofica e il cittadino non potrebbe dissentire da queste definizioni, dovrebbe accettare per esempio che sia normale, è il punto D dell'articolo 1, che una persona si ritiene donna anche se non ha sesso femminile e non ha concluso un percorso di transizione medico, quindi è a tutti gli effetti un uomo ha organi genitali maschili, non ha in corso o non ha completato un percorso di transizione medica, ma ha il diritto di essere considerato da tutti come una donna. E se noi ammettiamo questo vedremo che ci sono enormi conseguenze, gravissime conseguenze che all'estero sono già evidenti, ma uno Stato a meno che non diventi un regime totalitario non ha il diritto di imporre a cittadini che hanno credi religiosi diversi, che hanno concezioni della vita diverse, che hanno una loro visione della vita e dell'uomo, non ha il diritto di imporre una visione così artificiale, contraddittoria e contronaturale dell'identità umana e sessuale. Senta professore, ma allora in questo caso persone che pure si trovano a subire dei danni, delle persecuzioni a causa del loro genere, come potrebbero essere protette, come potrebbero essere garantite di fronte alla legge? Di fatto sono già ampiamente garantite perché esistono norme penali molto precise contro la violenza, contro la diffamazione, contro l'insulto, insomma contro ogni forma di violenza sia psicologica che fisica che morale compiuta danno di terzi per ogni tipo di motivo e la legge prevede anche condizioni aggravanti laddove le violenze o l'offesa sia condotta per motivi abbietti. Cioè in altre parole è ovvio che l'atto di violenza o di diffamazione di chiunque da parte di chiunque è già pienamente punito dalla legge. Non si vede perché andare a tutelare in modo particolare una minoranza perché non dimentichiamo che abbiamo un numero di persone percentualmente piuttosto ridotto. Secondo gli specialisti la percentuale di popolazione nelle società occidentali sviluppate avanzate di persone per esempio con orientamento omosessuale oscilla attorno al 2%. Ecco perché dovrei tutelare questa minoranza con una norma che li protegge in modo specifico e eccessivo laddove ammettendo che subiscono una violenza o insulti o qualunque atto offensivo e canognoso sono già perfettamente difendibili dalla legge come chiunque di noi se noi introduciamo questo DDL questa legge andiamo a violare il principio di perequazione legislativa cioè l'eguaglianza di fronte alla legge perché avremo una categoria più tutelata diciamo così da una legge speciale di altre categorie ad esempio la persona eterosessuale che viene aggredita offesa calugnata magari in quanto eterosessuale non può aggiovarsi di una legge speciale che tutela chi è eterosessuale e questo viola il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge che è un po' il mito diciamo moderno più importante a partire dalla rivoluzione francese per cui la legge è una legge fortemente sperequativa è una legge che per esempio ci sono moltissime altre comunità che subiscono o persone che subiscono violenze calugne offese ma che non hanno una legge speciale che li tuteli ci sono già tutti gli strumenti e non possiamo rischiare di compromettere il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge lei dice giustamente che ci sono anche altre categorie pensiamo a delle persone che hanno dei difetti fisici e che vengono magari per questo motivo prese in giro però non c'è una legge che tuteli queste persone quindi è chiaro che poi a un certo punto si possono trovare numerose categorie di persone che potrebbero anche richiedere una legge che protegga le loro necessità pensi l'aggettivo che ti fa sentire le persone grasse ciccione offese riferite alla grassezza l'anziano la vedova sono illimitate una legge speciale per ogni minoranza che rischia di essere offesa in virtù delle sue prerogative o il bambino con gli occhiali che da piccolo è preso in giro perché ha gli occhiali faccio una battuta ma è una battuta vera potremmo avere un numero sconfinato di categorie a rigor di logica illimitato che esigono una tutela particolare questo è veramente grave è la fine del diritto quale la tradizione romano cristiana ce l'ha fatto ereditare da 2000 anni a questa parte cioè la legge deve essere universale non può andare a proteggere una minoranza che non è più esposta di altre a nessun tipo di rischio che cosa possiamo dire dell'ambito politico perché nell'ambito politico insomma si discute di questo tema a volte se ne discute forse anche per distrarre l'opinione pubblica da altri problemi però sembra che la politica non riesca a venire a capo adesso si è inserita anche la chiesa cattolica magari qualcuno non se l'aspettava però ha cercato di dire ridiscutiamo questa legge cerchiamo di capire un attimo fermiamoci un attimo lei come vede l'ambiente politico riguardo a questo disegno di legge io farei queste osservazioni molto francamente distinguerei fra due parole molto brevi sull'intervento del Vaticano e poi due parole sull'intervento invece politico quanto al Vaticano la cosa che l'intervento è stato ampiamente e consapevolmente frainteso maliziosamente frainteso dalle forze politiche di sinistra che hanno gridato la laicità dello Stato quella laicità che loro stanno violando imponendo una legge ideologica e una precisa filosofia di vita a tutti i cittadini attraverso questa legge fra parentesi perché fra l'altro l'ideale Zan distruggerebbe il principio della laicità dello Stato della libertà di pensiero della libertà di scienza e di ricerca in campo medico e psicologico con persecuzioni di psicologi che curano gli omosessuali per esempio un fatto già conclamato nel mondo la Chiesa ha semplicemente ricordato un patto un trattato internazionale patti lateranensi e concordato del 29 modificato nel 1984 che prevede particolari tutele alla libera manifestazione della fede cattolica dei cittadini italiani di fede cattolica prevede tutele per le scuole paritarie di ispirazione cattolica prevede insomma il rispetto della morale della fede in coloro che sono cittadini italiani e l'ideale zan come concepito adesso soprattutto dagli articoli 4 e 7 andrebbe a ledere questi trattati perché per esempio c'è un articolo che impone una giornata di memoria dell'omofobia e in generale di tutti i temi a esso connessa che sarebbe il 17 maggio poi se ricordo bene e in questa giornata si prevedono iniziative in tutte le scuole di ogni ordine grado quindi dalle scuole elementari in poi a ogni livello anche con bambini molto piccoli senza eccezioni per le paritarie cioè per le scuole cattoliche sarebbe obbligatorio in qualche modo celebrare con iniziative formative inviti incontri anche con esponenti delle associazioni LGBT celebrare questa misteriosa giornata insomma contro l'omofobia e a favore di comportamenti non discriminatori e questa è una gravissima lesione del concordato è una gravissima lesione della libertà di coscienza e di pensiero per esempio della parte di popolazione che è di religione cattolica ma potremmo dire anche di religione islamica perché di fatto ci sono problemi simili dunque avremo la lesione di un principio costituzionale perché il concordato e i patti lateranesi ricorda tutti che fu incorporato nella nuova costituzione varata nel 48 quindi di fatto la nostra costituzione ha incorporato come articoli fondamentali i patti lateranesi e il concordato e dunque la chiesa cioè il vaticano più che la chiesa ha fatto oggettivamente molto bene a fare questo richiamo con prudenza con equilibrio perché siamo di fronte a una forte effrazione del quadro costituzionale quanto alle forze politiche ci sono c'è un quadro interessante perché è in corso del resto è evidente sotto gli occhi di tutti una sorta di implosione del Movimento 5 Stelle la maggioranza scricchiola il PD è in una grossa crisi perché vede un po' indebolirsi il quadro della maggioranza l'Italia viva ha fatto una proposta che toglierebbe l'articolo 1 sostanzialmente che è il più debole chiedo scusa e la Lega la Lega sta sostanzialmente appoggiando questa evoluzione sulla scia di Italia viva Ecco professore ma io concluderei questa nostra chiacchierata con anche una provocazione perché spesso chi è favorevole a una certa ideologia e anche al DDL ZAN dice ma questi attacchi arrivano da ambienti che spesso sono legati al Vaticano alla religione cattolica alla Chiesa cattolica e mettono in evidenza il fatto che per decenni se non per secoli lo Stato italiano ha avuto un rapporto privilegiato con la Chiesa cattolica allora loro dicono perché adesso si viene a parlare di laicità dello Stato cioè di trattamento eco per tutte le categorie quando per secoli invece c'è stato questo rapporto privilegiato di una certa parte della società con lo Stato italiano come possiamo rispondere a questa provocazione ma diciamo che la laicità è un valore chiedo scusa che è emerso sul piano politico sostanzialmente nel corso dell'Ottocento e a partire dalla Revoluzione francese prima è noto a tutti come di fatto le società erano società essenzialmente cristiane magari in crisi magari con molti problemi ma ispirate alla dottrina cristiana e le leggi erano per usare un'espressione plastica chiara una sorta di attuazione più particolare del decalogo le leggi si ispiravano alla legge di Dio e attuavano nel caso più particolare più concreto i grandi principi della legge naturale del decalogo quindi la società tradizionale pre-rivoluzionaria è fondata su quella che viene chiamata dagli specialisti la regalità sociale di Cristo ovvero la legge di Dio deve essere anche ispiratrice delle leggi positive degli stati uno stato non poteva fare una legge ad esempio a favore del divorzio perché andava a ledere la legge di natura e la legge di Dio questo per dire come era il mondo occidentale prima della rivoluzione francese fra 800 e 900 si è imposto il principio cosiddetto di laicità che però come proprio la legge Zand dimostra ma non è l'unica legge a dimostrarlo mostra di essere tutt'altro che laica in realtà nel senso che oppone alla vecchia visione che appunto potremmo sintetizzare come regalità sociale di Cristo il diritto di Cristo nella visione tradizionale a regnare anche sugli stati sulla famiglia sulla società sul lavoro non solo sulle anime dei singoli ma il diritto a plasmare l'intera società qui sta avvenendo in un certo senso l'opposto cioè si rivendica in fondo semplificando il diritto dello Stato moderno intimamente essenzialmente ateo che opera et si deus non darei come se Dio non ci fosse per usare la famosa categoria di imporsi in modo violento in un certo senso obbligando tutti i cittadini a fare propri valori che sono appunto intimamente anticristiani per cui torniamo al discorso iniziale di fatto si configura il rischio di una deriva totalitaria che è già in atto in un certo senso io mi permetto solo di fare due osservazioni se c'è il tempo molto veloci la prima è una sintesi che ci proviene dall'estero dagli stati come il Canada l'Inghilterra gli Stati Uniti dove sono già pesantemente avanzate queste norme contro l'omofobia e la transfobia di quello che succede dopo che la legge è passata perché l'onorevole Zan ha fatto molti interventi per rassicurare tutti e dire che non è lesa la libertà di pensiero di opinione di credo religioso in realtà all'estero è accaduto il contrario abbiamo delle famiglie di conseguenze molto gravi faccio degli esempi semplicissimi persone arrestate per crimini anche a sfondo sessuale ma non solo omicidio rapina delinquenti arrestati di sesso maschile che si dichiarano donne ottengono il diritto di essere incarcerati in carceri femminili e qui compiono è un caso ormai comprovato stupri a danno delle compagne delle carcerate di sesso femminile e si assiste a casi incredibili il diritto anche se la persona biologicamente è maschio di riconoscere che ha il diritto di essere incarcerato come donna la stessa cosa è per i bagni pubblici i bagni delle palestre i bagni delle scuole ragazzi che si dichiarano psicologicamente di genere femminile e ottengono il diritto a frequentare gli spogliatoi e i bagni femminili con numerosissimi casi di violenza e stupri accaduti a seguito di questa decisione a seguito di questa decisione abbiamo poi persone processate per aver espresso la loro posizione per esempio religiosa contro l'ideologia del gender e LGBT che sono state arrestate o comunque hanno avuto gravi conseguenze imprenditori negozianti che hanno subito persecuzioni perché hanno rifiutato è un caso famosissimo ad esempio di servire una torta di nozza a una coppia omosessuale in coscienza avendo la fede cristiana non se la sentivano di preparare questo dolce sono stati trascinati in tribunale e hanno avuto conseguenze persone licenziate per avere postato dei pareri avversi a questa legge in diversi stati oppure che hanno subito boicottaggi molto pesanti danneggiamenti della loro carriera impossibilità di continuare una ricerca libera in campo accademico in campo psicologico filosofico perché la più piccola violazione dell'ideologia del gender porta grazie alla legge contro l'omofobia a persecuzioni di varia natura potremmo proseguire a lungo nelle scuole genitori arrestati perché hanno rifiutato di far partecipare i figli in Germania ad esempio a corsi sul gender o a incontri con transgender con persone con transessuali con omosessuali ma anche aggressioni e processi a danno di persone che manifestavano loro opinione religiosa per esempio pastori protestanti arrestati per molte settimane per aver durante una predica parlato contro il comportamento omosessuale come nemico della legge di Dio quindi abbiamo ripeto ho fatto una sintesi molto molto veloci abbiamo centinaia io ho censito circa 700 casi di gravissime conseguenze dovute a questa legge contro l'omofobia l'ultimo esempio il processo a carico di una padrona di casa che ha rifiutato di affittare la casa a una coppia omosessuale o meglio di una donna che aveva una compagna transessuale e è stata trascinata in tribunale come omofoba e ha subito conseguenze quindi si potrebbe immaginare con relativa certezza un quadro di degrado giuridico sociale politico anche nel nostro paese perché di fatto diventerebbe molto difficile anche politicamente combattere contro una legge che si presenta come legge ingiusta per esempio c'è un articolo che prevede del DDL ZAN il diritto delle procure di operare intercettazioni e azioni di attenzionamento molto forti verso associazioni o gruppi che si sospetta che possano avere istigare la discriminazione contro appunto i gruppi LGBT quindi ci potrebbero essere azioni no no è chiarissimo è chiarissimo ha fatto una lunga lista di esempi il nostro tempo professore finisce qui io la ringrazio per essere stato con noi grazie mille per essere intervenuto grazie a voi arrivederci a presto ecco io ricordo che noi insomma siamo sempre aperti a sentire anche opinioni diverse quindi chi vorrà intervenire anche a supporto del DDL ZAN o comunque confrontarsi su questo tema visto che se ne parla se ne discute noi abbiamo le nostre telecamere e porte aperte sempre ovviamente nel rispetto e nella civiltà vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento al prossimo approfondimento ciao 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 Grazie a tutti.